Siamo tornati assieme per questa seconda parte di Buongiorno Friuli durante la quale come sempre daremo uno sguardo alle notizie sportive di oggi. Riprendiamo la nostra rassegna dal messaggero Veneto di Udine. L'abbiamo visto prima l'articolo che troviamo nel taglio basso della prima pagina che ci riferisce delle dichiarazioni di Parò Un Pozzo ieri durante la presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione dell'Udinese. Pozzo mercato da quattro, ha detto il Parò Un, è stato sempre così. Andiamo a risentire subito quanto detto ieri da Gian Paolo Pozzo durante questa importante conferenza stampa che ha lanciato la campagna abbonamenti nel nuovo stadio Friuli. Per noi questo è un momento che rappresenta qualcosa di nuovo. e a loro ho preferito fermarmi una mezz'oretta per partecipare all'evento. Ovviamente si tratta di la prima campagna abbonamenti di una nuova era che non è solo legata allo stadio, è legata all'hospitality, è legata a tutta una serie di iniziative che cerchiamo di fare per dare successo diciamo all'iniziativa che l'iniziativa è quella di riportare la gente allo stadio. Noi diamo assoluto valore, assoluta importanza alla presenza dei nostri tifosi. Questo è il patrimonio principale. Mettiamoci d'accordo bene, non è un patrimonio economico perché poi quando andate a fare i conti, quando snoccellerete il bilancio dell'Udinese vedete che i proventi da biglietteria sono mi pare un 4 milioni rispetto ai 50 milioni che ricaviamo da tutte le altre voci di ricavi. Quindi è un ricavo relativo. Quindi questo sforzo non viene affatto allo scopo esclusivo di migliorare gli incassi ma soprattutto perché io vivo abbastanza vicino alla mentalità del calciatore soprattutto per aumentare quel calore del pubblico, del pubblico amico, del proprio pubblico che ha bisogno della squadra. E noi dobbiamo cercare ogni 15 giorni di fare una piccola festa di modo che siano coinvolti anche quelli che non sono super tifosi che siano coinvolte le famiglie e magari creare la buona abitudine di andare ogni 15 giorni allo stadio perché per la verità, se no, io non so, la domenica non ci sono tante alternative. Allora diciamo che nel palinsesto della famiglia mettere dentro anche ogni 15 giorni andare allo stadio a livello di mercato non lo so perché noi abbiamo dei bravi giornalisti che hanno fantasia eccetera si svegliano la mattina due mesi, mezzo, tre mesi prima che si chiuda il mercato e cominciano a dire l'Udinese è ferma, l'Udinese non fa nulla eccetera allora si è cominciato a fare questa campagna due mesi e mezzo fa effettivamente i giornali hanno la loro influenza perché la gente mi ferma e mi dice allora quando compriamo non sono base ecco così faccio contenti quei giornalisti quando mi fermano non sono base bisogna dare anche il tempo allora cambiare tanto per cambiare no? non vale la pena anche se devo dirvi io sono sempre orgoglioso del giudizio dei miei giornalisti che poi li trasferiscono anche questi giudizi alla gazzetta perché ho sempre preso 4, 4 e mezzo come mercato e questo è di buon auspicio perché vi tiro fuori la gazzetta del 4 e siamo arrivati terzi io spero che quest'anno mi diano due io sono il primo a fare tanti sbagli accetto però ho l'umiltà sempre di accettare la critica e gli errori possibilmente che non sia strumentale solo quello io dico nonostante siamo una provinciale dopo vediamo un po' crescendo se possiamo magari mantenere e poter cancellare dal nostro vocabolario il discorso salvezza un mercato da 4 l'ha detto Pozzo nell'intervista una notizia ripresa anche nel titolo del messaggero veneto Pozzo il mercato da 4 già successo porta bene l'ultima volta con un voto basso sono arrivato terzo così spero in un due ma ritorniamo adesso sul sull'argomento principale della giornata di ieri e sulla campagna abbonamenti per la prossima stagione dei bianconeri vediamo subito l'articolo che troviamo sul messaggero veneto articolo che ci dice famiglie e prezzi bassi il nuovo Friuli è pop vogliamo riportare la gente allo stadio questo è l'obiettivo di questa campagna abbonamenti che punta molto sul concetto di passione passione bianconera da una parte lo stadio che sarà un gioiello dall'altra il mercato che spegne i sogni dice Pietro Oleotto nell'attacco del suo articolo in mezzo una campagna abbonamenti che partirà oggi andiamo allora a vedere sempre attraverso l'articolo del messaggero veneto quali sono gli elementi principali di questa campagna abbonamenti partiamo dalle dichiarazioni del direttore generale Collavino che ha detto questa campagna è storica e unica perché verremo incontro alle esigenze di tutti questo appunto ha detto Collavino per descrivere l'iniziativa legata a uno stadio che a inizio campionato non sarà ancora completo bisognerà arrivare a metà per avere a disposizione tutti circa 25 mila posti ma già a tre quarti si può puntare su un potenziale di 18 mila abbonati complessivamente quelli degli ultimi quattro anni saranno tutelati con un diritto di prelazione i passi di questa campagna abbonamenti tre le fasi di questa campagna abbonamenti che si aprirà proprio oggi fino all'otto luglio gli ultimi abbonati della tribuna centrale e laterale avranno la possibilità di confermare il proprio posto dal nove al ventidue invece gli aventi diritto alla prelazione potranno invece scegliere tutti i settori completati dal ventitré all'inizio del campionato la vendita libera molte l'iniziativa a sostegno dei tifosi dalla novità dell'abbonamento online si fa in 12 13 minuti all'assistenza attraverso degli infopoint al call center come spiega nei dettagli il sito bianconero udinese punto it se andate sul sito ci sono tutti i particolari tutti i dettagli di questa campagna abbonamenti una campagna abbonamenti anche conveniente ha detto il direttore amministrativo Rigotto leggiamo le sue parole lasciatemi fare una considerazione lo stadio sarà all'avanguardia per visibilità meglio di quello della Juventus per esempio ma i prezzi dei nostri abbonamenti sono davvero competitivi ha concluso il direttore amministrativo Rigotto si va dai 200 euro della curva nord ai 390 della nuova tribuna distinti ma sono le promozioni il fiore all'occhiello gli abbonamenti family per papà mamma eredi e poi gli abbonamenti new generation per i ragazzi dai 7 ai 14 anni a 50 euro per 15 gare escluse quelle di cartello con Juventus Milan Inter e Roma i posti sono 1000 700 per il family 300 per la new generation saranno brociati in un amen dice il messaggero Veneto e la possibilità di effettuare gli abbonamenti anche online piace ai tifosi abbonamenti anche online i tifosi plaudono Muraro dell'AUC dice modalità innovative i club saranno di supporto a quota 18 mila abbonati si può arrivare con un gran colpo e intanto a proposito di mercato leggiamo anche queste quest'altro articolo che troviamo sempre sul messaggero Veneto il Napoli a Londra per Erto e Allan il DS giuto l'incontra Gino Pozzo che vuole Britos per il Watford tante voci tante notizie che arrivano anche oggi da radiomercato c'è una certezza intanto ed è l'arrivo in bianco nero dell'iracheno Ali Adnan che oggi sarà presentato ufficialmente via libera Adnan oggi la presentazione l'appuntamento è a mezzogiorno allo stadio Friuli un appuntamento che ovviamente noi seguiremo in diretta mentre vediamo appunto l'arrivo di Ali Adnan allo stadio Friuli oggi la presentazione ufficiale alle 12 vedremo e sentiremo anche le prime dichiarazioni di questo giocatore di questo nuovo giocatore bianco nero che ha già suscitato molto interesse molta curiosità possiamo dire davvero in tutto il mondo abbiamo realizzato se non sbaglio anche una clip che ci mostra le azioni più belle di Adnan vediamo assieme così cominciamo a conoscere meglio anche questo nuovo volto questo nuovo giocatore bianco nero conoscere Grazie a tutti Come on Grazie a tutti 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 Fino al 2020 è il quarto acquisto rossonero dopo Bertolacci, Bacca e Osè Mauri e resta viva l'ipotesi. Ibraimovic. Oggi ci sarà il raduno per le milanesi. Parte la sfida, dice il Corriere dello Sport. Nel taglio alto anche sul Corriere dello Sport in primo piano il caso sarà a Inter. Ci sarebbe l'accordo e a Firenze, come abbiamo visto anche sulla gazzetta Scoppia, il caso. Sul Corriere dello Sport troviamo anche la notizia che riprende l'inchiesta sullo scandalo corruzione ai vertici della FIFA. L'FBI vuole 20 anni di galera. Chiesta l'estradizione per gli accusati che rischiano grosso. E poi ancora, tornando invece al calcio, vediamo anche queste altre notizie di mercato. Benitez vuole Vidal e Llorente dalla Juve. E poi anche il Corriere dice svolta Napoli. Adesso Allan è a un passo. E infine una notizia di tennis. Si sta giocando il torneo di Wimbledon. Nadal disastro. Invece per quanto riguarda gli italiani, Fognini crolla. Seppi, Giorgi, sì, vanno avanti nel torneo di Wimbledon. E con questa notizia chiudiamo anche questa seconda parte di Buongiorno Friuli. Io mi fermo qui. Adesso cedo la linea alla regia per tutti i programmi del mattino. E vi ricordo l'appuntamento, la diretta delle 11.55 per la presentazione di Ali Adnan. Grazie per la vostra attenzione e rimanete in nostra compagnia. Buona giornata a tutti. Grazie per la visione.